Vincere il paterno di misura al termine di una gara equilibrata e decisa alla fine solo dagli episodi. Tecnicamente non è stato un match da tramandare ai posteri, ma i punti in palio erano forse più importanti dello spettacolo e paterno e penne si sono adeguati, tutte e due per restare nei quartieri alti della classifica e in attesa di tempi migliori. Le formazioni sono quelle annunciate e nel paterno si registrano i rientri di Di Stefano, al quale va anche la fascia di capitano, e quello di Albertazzi che però si accomoda in panchina e ci resterà per tutta la gara. Pronti via e prima pallagol per gli ospiti che sfiorano il bersaglio con il mobilissimo Pagano, sicuramente il migliore dei biancorossi, che spedisce la palla a lambire il palo alla destra di Ranalletta, salvato nella circostanza anche da una deviazione di un compagno di squadra. La replica dei Marsicani porta la firma di Mercogliano, che ci prova dal vertice dell'area, ma la mira risulta imprecisa. Fasi alterne fino al ventunesimo, quando cioè il paterno passa in vantaggio, sfruttando un calcio piazzato a proprio favore. Tabacco spedisce lungo in area, dove il più lesto di tutti è Di Virgilio, che aggancia e in mezza girata batte d'amico con un sinistro forte e preciso. Partita in discesa per i nerazzurri, ma neanche per idea, perché il vantaggio dura soltanto due minuti ed è ancora Tabacco il protagonista, questa volta però in senso negativo. Il centrale sbaglia il rinvio e finisce per agganciare in area lo sgusciante Pagano proprio sotto gli occhi del direttore di gara, che non ha dubbi e nell'indicare il dischetto del rigore. Dagli undici metri l'ex di Ruocco calcia di potenza e Ranalletta deve arrendersi nonostante riesca a toccare il pallone, che però termina in fondo al sacco. Si riparte sul nuovo pareggio e alla trentaseesimo c'è un episodio che fa arrabbiare quelli del paterno, perché sulla giocata di Iaboni sulla fascia destra c'è la sfera che termina davanti alla porta di D'Amico, dove ha postato Mastroianni, che insacca in scivolata. Sembra tutto regolare, ma il collaboratore dell'arbitro alza la bandierina per segnalare un fuorigioco, che dalla tribuna sinceramente è impossibile rilevare. Noi vi mostriamo le immagini che sono in nostro possesso, senza ulteriori commenti. E per chiudere la prima frazione vi proponiamo questo destro dal limite di Mercogliano, bloccato con sicurezza da D'Amico. Passiamo adesso a vedere cosa ha offerto la ripresa, abbastanza deludente nel primo quarto d'ora, nel corso del quale, di interessante, si fa per dire, c'è qualche ripicca di troppo, prima tra i giocatori in campo, con Di Ruocco e Di Stefano particolarmente infervorati. E poi con i tifosi ospiti che in tribuna usano un gergo non troppo gradito dai sostenitori locali, tanto da costringere i carabinieri ad intervenire per riportare la calma. Nessuna azione degna di nota per 25 minuti, ma al ventiseesimo il paterno passa per la seconda volta. E Cancelli che dalla tre quarti spedisce in aria un pallone a scavalcare, che Di Virgilio trasforma in oro colato, con una capocciata che non lascia scampo a D'Amico. Palla che si infila verso il palo più lontano, senza che il portiere possa farci nulla. Al ventinovesimo Mastroianni tenta al volo da una quindicina di metri, ma colpisce in maniera fiacca, e D'Amico blocca senza problemi. Poi accade che la batteria della nostra telecamera esala l'ultimo respiro, proprio mentre Pagano colpisce la traversa con un tiro a giro che avrebbe potuto fruttare il nuovo pareggio. L'ultima azione è ancora di marca locale, su ripartenza avviata da Sassarini e proseguita da Conè, sul cui passaggio di ritorno il penne si salvi in estremis, nel modo che vediamo. Tre minuti di recupero e poi tutti a casa, chi a festeggiare per il ritorno al successo e chi a cercare di capire i motivi di una sconfitta sicuramente in attesa. Pavone, una partita che stavate portando al termine sul pareggio, poi che cosa è successo? Niente, abbiamo fatto un errore, abbiamo regalato l'ennesima palla in fase di uscita, perdiamo palla. Facciamo un errore gravissimo, non è partito un solo giocatore, ma abbiamo fatto tre errori contemporaneamente, e quindi loro hanno approfittato il nostro errore, il secondo tempo la partita si era equilibrata e poi non siamo riusciti a pareggiare. La traversa alla fine, potrebbe scapparci qualcosa di più? Ma sì, nel senso che potevamo anche pareggiarlo, ma il problema è che comunque abbiamo fatto degli errori noi, quindi dobbiamo fare un mia colpa, ricominciare da dove abbiamo smarrito la strada e riprende la strada giusta che abbiamo intrapreso. Per il paterno c'è il presidente Angelo Di Gregorio, una partita che stava per chiudersi sul pareggio, poi è arrivato anche il gol del successo. Una partita però strana, un tantino nervosa, nel secondo tempo pochi diri in porta. Una partita difficilissima, lo sapevamo, poi sul campo si è visto che comunque il penne è una squadra ottima. È inspiegabile l'annullamento del secondo gol nostro perché era regolarissimo e speriamo che lo fate rivedere pure nelle immagini. Poi ce l'abbiamo fatta, era indispensabile oggi anche per una questione di morale, di riprendere un po' di entusiasmo, per importante vincere. Ce l'abbiamo fatta, brava a tutti i ragazzi, ma complimenti pure al penne che è una bella squadra.